che cosa vuole per colazione birra birra a colazione è orribile birra a colazione hai mai bevuto birra a colazione basta un sorso di birra a colazione e le ragnatele se ne vanno la voce si alza di due ottave e come d'incanto ti sorge dentro il sole a proposito ne ho un cartone in macchina grazie ma non credo che sia il caso senta grazie 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 grazie